solamente questa cosa a voi sarà capitato varie volte nella vostra vita di non sentirvi all'altezza e non sentirvi no anche per il fatto che siete caduti qualche volta di dire magari io non valgo abbastanza ricordatevi una cosa dell'essere umano che ognuno di noi che nasce è unico e irripetibile c'è un dna che non si ripeterà mai ognuno di voi è unico nella storia dell'universo una storia dell'umanità c'è qualcosa di straordinario in questo dovete ricordarvelo ok perché questo è quello che fa la grandezza delle persone la loro capacità di cadere e di rialzarsi di essere persone che ieri avevano fallito e che oggi hanno qualcosa da insegnare agli altri quello che voi state facendo un percorso doloroso un percorso complesso difficile però vi può trasformare in persone che hanno qualcosa da insegnare agli altri e questo fa la differenza ve lo dovete ricordare ve lo dovete ricordare si può cadere e si è caduti ma questo non diminuisce il nostro valore il nostro valore è determinato da come sappiamo reagire alle cose brutte che ci succedono nella vita ma ognuno di voi è unico non ce ne sarà mai più un altro e questo è incredibile per cui dovete fare leva su quello che voi siete non su quello che gli altri hanno pensato di voi non sulle cose che sono successe non su su voi perché ce n'è uno solo e cavolo è unico e grazie a giampaolo a tutti gli operatori grazie a tutti i carabinieri che sono qui oggi insomma per il lavoro straordinario che fanno gli facciamo un grande applauso grazie a tutti